Dietro le quinte di Il Signore degli Anelli Durante le riprese di Le Due Torri, Viggo Mortensen si è rotto due dita del piede, dando un calcio a un elmo. La scena è stata mantenuta nel montaggio finale. Si può notare quando Aragorn lancia un urlo vicino alla foresta degli Ent. Per Mortensen non è stato l'unico infortunio. Sul set di La Compagnia dell'Anello si era spezzato un dente e se lo è riattaccato con della colla pur di continuare le riprese. Dietro le quinte di Il Gladiatore Il film non venne girato all'interno del Colosseo. La produzione non ottene il via libera da parte del Comune di Roma e così si decise di ricostruire parte del Colosseo in un set a Malta. La battaglia iniziale è stata molto complessa da girare e ha richiesto circa 20 giorni. E nelle scene alla fine della battaglia si possono notare alcune ferite sul volto di Russell Crowe. Si tratta di vere ferite e non di make-up. Il cavallo dell'attore si era infatti imbizzarrito facendolo scontrare con un albero. Siete pronti per il sequel con Paul Mescal? Che fine ha fatto la A della Stark Tower? Se ricordate in The Avengers tutte le lettere che compongono la parola Stark vengono distrutte tranne la A. E sul set Robert Downey Jr. che interpreta Iron Man ha scherzato dicendo di volere quella lettera per gli uffici della sua casa di produzione, la Tim Downey. Sembrava che la battuta dovesse finire là ma dopo circa due anni i Marvel Studios gli hanno fatto recapitare la lettera. Tutt'altro che piccola visto che ha una dimensione di circa 9 metri. Un souvenir a dir poco indimenticabile. Durante le riprese di Jurassic Park il tirannosauro si attivò da solo spaventando tutta la truppa. Ma niente di sovrannaturale. Si è trattato semplicemente di un cortocircuito causato dalla pioggia. Il tirannosauro era infatti un complesso animatronic ma non del tutto impermeabile a quanto pare. E in un momento di pausa delle riprese si è riattivato a causa del cortocircuito facendo qualche movimento e generando qualche istante di spavento. Ad Al Pacino venne offerto il ruolo di Han Solo. L'attore all'epoca della realizzazione del primo Star Wars era sulla cresta dell'onda. Tra le varie proposte che gli arrivarono ci fu anche quella per una nuova speranza. Tra l'altro ha detto che gli offrirono davvero molti soldi. Al Pacino preferì rifiutare dicendo che la sceneggiatura non gli fu totalmente chiara. E ha dichiarato scherzosamente di aver così regalato una carriera a Harrison Ford. Vi sarebbe piaciuto vedere Al Pacino in Star Wars? Ditecelo nei commenti. Non dimenticate di seguire Screen Week per altri video sul mondo del cinema.